Prevenire meglio che curare non è più un semplice detto ma è una forma vera e propria di medicina anche in questo campo, professor Pellerin. Sì, direi proprio di sì e direi che questa giornata è particolarmente importante proprio per sottolineare l'importanza della prevenzione, l'importanza dell'attenzione che le donne, anche le giovani donne, devono avere quasi come uno stile di vita, nel senso che bisogna essere attente a quelle che sono anche le possibilità di una diagnosi precoce e quindi con tutte le attività che questo impegno comporta, perché prevenire molto spesso è guarire. Purtroppo direi che in questo periodo, inevitabilmente a causa della pandemia, nei primi mesi dell'anno abbiamo avuto un rallentamento di quelle che sono state le attività anche di prevenzione ma anche di screening e, ahimè, anche di attività diagnostica terapeutica. È giunto il momento di risvegliarci e di riconsiderare tutto questo periodo come superato e quindi di ridare la giusta posizione alla prevenzione perché davvero diventa un modo per vivere meglio e più a lungo.